La prima fase del lavoro è stata quella della passeggiata in cui abbiamo cominciato a conoscere il territorio di Roio e poi negli incontri che si sono tenuti tutti quanti tra la struttura polifunzionale di Santa Rufina e quella di Roio Boggio. Lo stesso lavoro di esplorazione l'abbiamo svolto anche con gli autobus, quindi abbiamo utilizzato l'autobus per muoverci sia verso Roio sia dentro Roio e sia poi per tornare all'Aquila. Proprio per capire quali sono le abitudini di vita e di interazione delle persone che abitano a Roio abbiamo svolto una serie di questionari sia in forma cartacea che in forma digitale online. Uno studio molto importante che abbiamo fatto è stato quello sulle personas, quindi abbiamo scelto 5 persone che in qualche modo per noi rappresentavano degli utenti tipo e questo ci ha consentito di guardare ad utenti ai quali di solito non si pensa pianificando. In questo modo abbiamo elaborato una strategia progettuale che fosse quanto più flessibile possibile in modo da adattarsi alle esigenze di ciascuno. Grazie a tutti!